La voce circolava da tempo ma domani potrebbe concretizzarsi. Matteo Renzi sarebbe pronto a lasciare il PD per formare una nuova formazione politica. L'annuncio della scissione dovrebbe esserci già domani. Con Renzi dovrebbe abbandonare il PD un pugno di fedelissimi che al Senato entrerebbe nel gruppo misto. Non sono serviti finora, e salvo sorprese, gli appelli all'unità dei vertici del PD e anche dei neo-sottosegretari del governo Conte che oggi hanno giurato molto vicini a Renzi. Io guardi, non penso che l'uscita sia l'ordine del giorno. Di conseguenza, ripeto, se volete parliamo di tutte le belle cose che abbiamo in mente di fare. Io ho appena dichiarato che mi auguro che nessuno esca dal Partito Democratico. Io faccio un appello all'unità, il PD la nostra casa. Abbiamo dato una grande prova di unità con la creazione di questo governo. L'accelerazione ci sarebbe stata nelle ultime ore. Renzi conterebbe di presentare il nuovo movimento nel corso della tradizionale Kermes della Leopolda. Scissione che non dovrebbe nel breve tempo provocare problemi alla maggioranza di governo. Oggi a Palazzo Chigi il giuramento dei 42 sottosegretari e dei 10 viceministri. E di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Dare il massimo per rispondere alle urgenze del Paese. L'invito ai sottosegretari rivolto dal Premier Conte. Lo faremo con grande orgoglio, consapevoli che rappresentiamo un grande Paese. E quindi lo faremo con la massima determinazione, ne sono certo. Grazie a tutti.